Direttore, sarei data una spiegazione adesso che è finito il campionato, senza avere una polemica assolutamente, sul perché non solo dell'eliminazione ma di questa flessione della squadra negli ultimi mesi? Sinceramente ci sto riflettendo da tanto, da sabato ci rifletto, anzi forse anche un po' prima, una spiegazione precisa non riesci a darlo, forse anche il bello del calcio che non si riesce mai a dare una spiegazione oppure tutto è opinabile, certamente delle motivazioni si possono ricercare in tanti fattori, però trovare una specifica è molto difficile, però io faccio sempre un'analisi a 360 gradi, comunque questa squadra ha fatto un buon campionato, per lunghi tratti ha espresso un calcio importante, quindi la parte positiva la mettiamo nel cassetto e non la enfatizziamo e poi lavoriamo sull'ultimo periodo che secondo me non è stato all'altezza del valore della squadra, o meglio, forse così sono un po' male, questa squadra forse meritava qualcosina in più. Parlerà con Sottili? Sì, si parlerà con Sottili a breve e ci chiariremo. Per quanto riguarda invece la Rosa, l'anno scorso ha avuto un bel da fare in estate perché insomma l'Arezzo aveva solo tre giocatori, adesso si ritrova 12 giocatori, anzi 13, Barison è un prestito con diritto di riscatto, quindi insomma il prossimo allenatore sia Sottili o no non avrà un manipolo di giocatori da assemblare, avrà un progetto, una base più solida da cui partire. Sì, questo era un passo che noi volevamo fare, che era quella di creare una base, siamo un po' tra virgolette un po' più sereni oppure abbiamo idee un po' più specifiche di dove andare, però sai il mercato è sempre complicato, nevrotico e quindi inizio questo periodo che conosco bene, insomma ci saranno giocatori che poi arriveranno, resteranno, qualcuno si muoverà, quindi siamo un po' più sereni ma non tranquilli. Niente alibi però per le strutture? No, è una cosa che io non concepisco, noi faremo il massimo possibile per mettere le strutture perché noi crediamo molto nelle strutture, perché è la partenza di una società, è la partenza della fotografia di una società sportiva, però non credo sia un alibi perché comunque anche con grande fatica, però abbiamo sempre messo il massimo che potevamo mettere a disposizione della prima squadra.